Mamma, stai bene? Pronto? 1522. Pronto, mi aiuti. Sono qui. È da sola? No, c'è mia figlia. Non so dove andare, non ho un lavoro. Siamo soli. Si fidi di me. L'aiutiamo noi. Grazie. Non vedevo via d'uscita. Ha visto? Il lavoro, la casa. Come state? Stiamo bene. Se sei vittima di violenza o stalking, chiama il 1522. Libera puoi dire no. Libera puoi ricominciare. Grazie.